Mi chiamo Gianfranco Norato, Jeff per gli amici che mi considerano il figlio del vento. All'età di 23 anni ho avuto un gravissimo incidente che mi ha praticamente spezzato le ali. Ho perso l'uso del braccio sinistro e parzialmente quello della gamba sinistra, ma non mi sono arreso. Ho lottato contro tutto e contro tutti quei pregiudizi che mi impedivano di essere normale come un tempo. E adesso ho di nuovo le ali dei miei 20 anni, scivolo veloce sull'acqua come il vento, ritrovando così il gusto della libertà che avevo perduto. Ora sono un atleta nazionale e un maestro federale e vorrei, assieme a tutti i miei allievi, portare un messaggio di speranza a tutti quei ragazzi che ancora non hanno avuto la forza di reagire. Un progetto nobile e straordinario. Piuttosto, visto che siete qua, tanto vale che ve le mostri. Sono le immagini di una scuola un po' speciale, dove si inizia sciando e pensando e si finisce volando. A presto. So I think I got it all in place now. No distraction